Quando le parole non bastano, allora servono i colori, le forme, le note, ma soprattutto le emozioni. Sabato 26 febbraio, sabato 26 febbraio, Lepua è anniversary, anniversary, un'altra notte di grande musica e divertimento per festeggiare i due anni del club più esclusivo di Vicenza. In console per tutta la notte, Pierre Louis, K. Robin e Christian K. Richiedi l'invito VIP al tuo PR di fiducia per partecipare al buffet di gala dalle ore 21 e 30. LepuaClub.com, Caldogno, Vicenza.